Sono state portate illustrazioni a questo libro, è la televisione, e tra vedere, sentire, c'è una bella differenza insomma. Vedendo lo spettacolo sportivo, partite di calcio, allora, sì ci divertivano ma non si vedeva nulla. Dipendevamo dalla fantasia di Carosio, fantasia eh, non dalla oggettività, fantasia perché Carosio inventava le partite.